E' stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione un operaio accusato di aver sparato alle gambe del suo vicino nell'Androne di una palazzina in via Ramacca nella zona di Viale Santa Panaggia, area nord di Siracusa. La vittima dell'agguato è un ambulante con precedenti penali che era appena rientrato da lavoro. La sentenza del gruppo arriva per lesioni gravi e detenzione di arma e è stata emessa dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa. Al termine del processo di primo grado che se l'è celebrato con il reito abbreviato. Il PM della procura di Siracusa si era espressa per una condanna a tre anni dell'imputato. Sono dispiaciuto per quello che ho fatto ma non sopportavo l'idea che quell'uomo forviasse i miei figli. Aveva detto l'operaio nelle ore successive al suo arresto compiuto dagli agenti alla squadra mobile di Siracusa. Il movente, secondo la ricostruzione effettuata da Blog Sicilia, sarebbe dovuto al fatto che l'operaio temeva che i figli rimanessero risucchiati nel mondo della droga per via di quel vicino con precedenti penali.